Chiuso al termine della passata stagione il rapporto come sponsor con la United Sly, aperto un nuovo capitolo sportivo, quello con l'ambizioso Martina. Luciano Soldano ha deciso di fare calcio nella sua città, entrando in società e rilevando il 50% del suo dalizio guidato da Piero Lacarbonara, ricoprirà anche il ruolo di vicepresidente del club della Valeditria. Nella mia città volevo dare un po' un supporto per non far morire il calcio qui a Martina, soprattutto perché ci siamo ritrovati con Lacarbonara su alcune idee comuni legate anche al tentativo di valorizzare i giovani e quindi aprire un po' le porte al settore giovanile. Michele Cappellari, ex Cerignola e Bitonto, la società metterà a disposizione di Massimo Pizzulli. Altri elementi importanti per la categoria nel Mirino, inutile nasconderlo, c'è la Serie D. Stiamo adesso cercando una prima punta e poi sistemeremo qualcosina a centrocampo e sulla difesa, per cui ci saranno 3-4 gli inserimenti per avere un organico competitivo. L'ingresso in società di Soldano garantirà solidità al progetto Martina. Stiamo mettendo appunto una rosa che possa ecodire la sua. Dal punto di vista invece della solidità, un po' in controtendenza, noi abbiamo già allestito il 90% dell'organico, non abbiamo ancora iniziato nessuna campagna sponsor perché vogliamo arrivare degli sponsor senza chiedere perché abbiamo bisogno, perché per fortuna possiamo anche farne a meno volendo, ma scegliere anche partner giusti, per cui non ci sarà nessun problema per questa stagione, magari cominciamo a pensare anche alla prossima e agli anni a venire, perché è un progetto che per quanto mi riguarda è basato su a meno 5-6 anni con degli obiettivi minimi da raggiungere.